Ufff, 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 ufff I'd like to be inspired I wanna train to Marrokech I'd like to be inspired When I travel with no catch I'd like to be inspired È il momento della batteria? Sì Stop, stop, stop Ok, a meno avanti dall'inizio faccio proprio una take vaffanculo Una take vaffanculo Parla bene, eh No, non pensate Eh, va bene